8-8-3 perché vince il segretario musica italiana, è vero? Siamo migliorati rispetto a Luigi Tenco, oggi abbiamo Max Pezzani e abbiamo migliorato la qualità musicale del camper. Facciamo la prova di oggi. Lugano addio, Firenze, sono dei pezzi, sono delle opere. Lugano addio. Senti ti dico Ivan, che cognome mi metti? Graziani. Ma non tu! Graziani. Chi era Ivan Graziani? Graziani, attaccante del Torino. Io conosco Ciccio, Graziani. Grazie, attaccante del Torino. E' anche grande allenatore del CERPIA, mi ricordo. Ha fatto un signor programma. E' ammessa la non conoscenza di Ivan Graziani, anche se è grave. Non è ammesso che da un quarto d'ora si è cercato di avere sta fottutissima bottiglia di vino con le dita. Non apre il vino con le dita. Non c'è il cavatar. E' ancora come c'è il Zipan. Ma c'è il contenitino svizio. Non c'è il cavatar. Pranzo panini, eh. Assolutamente. Guarda, il ricco pranzo del politico. Vabbè roba. Lusso. Lusso. E non si beve. Racconta la notte che hai passato, balena spiaggiata. Ho dovuto passare una notte sul camp. Eh, siamo in camp. Mentre altri hanno dormito più comodamente in una stanza d'albergo, io mi sono dovuto. Eh, solo tu eh. Perdiamo tutto il voto dei viticoltori e degli amanti. Sospendi un attimo il video perché apriamo il Lugana e poi ci ricolleghiamo.